La festa solidale del sorriso sapore di bufala si è conclusa con successo ieri sera, evento che ruotava intorno ai prodotti tipici del territorio derivanti dal latte di bufala. Le pietanze sono state preparate da abili chef assistiti dagli allievi dell'istituto alberghiero Enzo Ferrari di Battipaglia. L'evento solidale ha avuto l'obiettivo di finanziare i viaggi della speranza di bambini affetti da patologie oncologiche costretti alle cure fuori regione. Inoltre parte dei ricavati è stato devoluto per l'acquisto di macchinari diagnostici e per altri scopi benefici, quale il sostegno alle popolazioni colpite dal territorio del centro Italia. La festa solidale del sorriso, lui è il presentatore ufficiale, Rosario Bacco, bello e bravo. Allora Rosario, tre serate bellissime con tantissime persone, qual è il segreto di questa associazione? Perché è tanto amata e perché c'è tanta gente che è intorno a ella? Ma sicuramente il segreto sta perché è vera, è una realtà del territorio che ormai esiste da tantissimi anni e che è accanto al bambino oncologico e all'oncologia pediatrica e a sostegno di tutte quelle famiglie che in questo momento si trovano a fronteggiare uno dei momenti più brutti della vita e l'associazione le accompagna in tutto il percorso, in tutti i modi possibili, economicamente e non, senza trascurare ovviamente l'aspetto psicologico. Questi eventi servono appunto per fare un po' di fundraising, quindi reperire un po' di fondi perché effettivamente tutto viene impiegato a favore di questi bambini. Che cosa può fare una persona che magari non è qui stasera ma che vorrebbe in qualche modo aiutare l'associazione? Guarda Maria Rosario, è semplicissimo, basta semplicemente a potersi collegare sul sito in modo tale, Arcobaleno, Marco Iagulli, oppure sulla pagina Facebook. Ci sono tanti modi, dal 5x1000, feste varie di piazza, bomboniere solidali perché fanno anche delle bellissime bomboniere, veramente molto belle. Sono tanti i modi, tra l'altro ci sono nuovi progetti, tra cui il Cashback World di cui ne abbiamo proprio parlato questa sera. Sono tante le iniziative, basta un minimo contributo e sostenete anche voi l'oncologia pediatrica. Questa qui è la Cashback Card. Tutti quelli che si iscriveranno e avranno la loro Cashback Card potranno effettuare i loro acquisti tramite le imprese convenzionate. Nel momento in cui faranno il loro acquisto avranno sia loro un ritorno di denaro ma anche l'associazione, quindi contemporaneamente avranno un vantaggio loro e anche l'associazione. Quindi faremo un'opera di bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.